Sarà una domenica di festa a Camucia perché torna a Camucia in Fiera, un appuntamento molto atteso non solo dagli abitanti ma anche dagli espositori. Quest'anno saranno ben 50, come ci conferma Lucio Gori di Confesercenti, che è anche l'organizzazione che allestisce questa iniziativa. Torna a Camucia in Fiera, un appuntamento ormai tradizionale della primavera della Val di Chiana. Camucia è il centro commerciale naturale più grande dell'intera Val di Chiana a Retina. Ospiterà oltre 50 espositori provenienti non solo dalla provincia ma da tutta la Toscana con ottimi prodotti utili soprattutto per le famiglie e per il cambio di stagione. Quindi un'opportunità di vivere Camucia, di trovare tra i banchi degli espositori prodotti all'insegna della qualità e della varietà. E soprattutto potremo tornare a utilizzare Piazza Sergardi nella nuova veste, il che ci consentirà anche di animarla con espositori di artigianato artistico, opere dell'ingegno, florovivaismo. Quindi Camucia e i suoi cittadini, gli abitanti dell'intera Val di Chiana potranno per questa domenica, ci auguriamo se il tempo ce lo consentirà, riappropriarsi di spazi, di socialità e anche quindi vedere e visionare le attività commerciali del centro di Camucia. Quindi un'occasione e un invito per tutti, Camucia in Fiera domenica 19 dalle 9 alle 20.